ora prova di nuovo a atex a vedere se se funziona a vedere se funziona Sì, sì, va bene. Questo posto è guardato a vista. Ho guardato dentro la casa, non c'è una fava. Vettovaglie, e basta. Quella grossa più grossa. No, c'era soltanto... Hey Ivan, I'm getting a little bit crazy, because I don't find a jar of oil. For me explode a things. And Ivan, welcome to 123Nerd, or better say... I'm just exploring all the England, so actually as an explorer is a great Assassin's Creed. As a story, I do a very little part of the story, so I can't tell you any more about the campaign mode. E nel frattempo vediamo che Atex ha ancora dei problemi. Non saprei che caspiterina fa. E nel frattempo vediamo che caspiterina fa. E nel frattempo vediamo che caspiterina fa. There are a lot of glitches. Buonanotte Luca! I rename the Assassin's Creed bug Assassin's Creed. Or glitch Assassin's Creed. But it's funny, find glitch and bugs. I'll let you see something more funny. One is this. And one is this. Three white holes that I have to write. I'm not the greatest, but the only thing that's... One is this... Two... It's... Three... One... And two, Two... Five... Three... Two... Grazie. Ok. Even Hell97. Find me a new generation game that no have bugs. Wow. 20 Singing game. 10 Storageittedsilence. 8 Grazie a tutti. 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 Se ti dà, quando cerchi di scrivere, la dicitura devi essere utente da 24 ore, per almeno un giorno per poter interagire in live. Perché ho dato una veloce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetto un minuto. e la faccio ripartire. ci vediamo. e... We'll be right back in about a minute.